Parlando di volley con la Leosius Perkinelmer che dopo la delusione di Coppa Italia torna in campo domani sera alle 20.30 al Palapanini nella sfida del ritorno degli ottavi di finale di Coppacev contro i francesi del Tour. Si riparte dalla sconfitta 3-1 maturata nel match d'andata mercoledì scorso in Francia. Questo significa che Modena per qualificarsi dovrà vincere 3-0 o 3-1 per poi portare la questione qualificazione al Golden Set di Spareggio. La vigilia del coach gialloblu Andrea Gianni al microfono di Stefano Michelini. Sentiamo. Come avete affrontato il giorno dopo la delusione dell'eliminazione della Final Four di Coppa? Brucia molto nel senso che era una partita che assolutamente volevamo vincere e non l'abbiamo fatto. Tra l'altro mi ha fatto una prestazione sicuramente non all'altezza della squadra e dei giocatori che abbiamo. Quindi questo è il dato che ci fa più male. Bisogna adesso avere la forza di reagire in maniera anche concreta perché abbiamo alle porte un'altra partita da dentro fuori. Dobbiamo essere pronti a chiudere il capitolo Piacenza, quindi Coppa Italia e cercare di essere estremamente competitivi nella partita che affronteremo domani. Noi abbiamo quattro obiettivi dall'inizio della stagione. Il primo è un dato. Abbiamo altri tre obiettivi, quindi la Coppa, la qualificazione per la Champions e per lo Scudetto. Siamo dentro a quello che sono gli obiettivi e dipendono da noi, non dipendono dalle altre squadre. Sappiamo la forza delle altre squadre e sappiamo anche quanto possiamo essere forti noi. Questo deve essere un punto di forza che ti deve dare quelle certezze per vincere questo tipo di partite. E di volley si parlerà anche questa sera su TRC, l'appuntamento delle ore 22 con Barba e Capelli, ospite il libero di Modena Volley, Salvatore Rossini.